pronto servizio clienti topolino sì volevo volevo dirvi che il vostro gioco da tavolo è rotto il vostro gioco da tavolo non funziona quindi mi dovete un rimborso perché beh è possibile che paperino vinca e gastone perda vedete voi ciao a tutti e benvenuti nel canale video della maschera riposta io mi chiamo mosè e in questo video vi voglio dire cosa ne pensiamo di la 24 ore di paperopoli il gioco da tavolo allegato con la rivista topolino questo gioco da tavolo è stato diciamo appunto allegato alla mitica rivista topolino della disney attualmente edita da panini in tre differenti uscite quindi era necessario acquistare tre numeri di topolino per avere il gioco completo anzi per averlo proprio completissimo era necessario acquistare anche due altre riviste due numeri di altre due riviste disney zio paperone paperino per avere diciamo dei personaggi aggiuntivi però ecco erano sufficienti tre numeri di topolino per avere questo gioco nella sua in una forma diciamo giocabile forse ne erano sufficienti addirittura due su questo non sono su questo non sono sicurissimo comunque cos'è la 24 ore di paperopoli la 24 ore di paperopoli è un gioco di corse quindi ogni giocatore in persona uno dei persona uno dei paperi è uno dei paperi più famosi e ci sono paperino paperina zio paperone rocker duke che bisognerebbe dire rocker duck ma insomma noi diciamo rocker duke archimede pitagorico e infine gastone d'accordo ogni personaggio è collegato con un mazzo di carte quindi ogni giocatore al suo mazzo di carte non ci sono lanci di dadi questo è un gioco card driven d'accordo quindi bisogna prima togliere da questo mazzo vabbè le carte riassuntive che non servono a niente praticamente bisogna togliere 5 carte che rappresentano i cosiddetti poteri speciali e ovviamente eccole qua e sono queste qua le altre vanno tutte mescolate fra di loro e costituiscono il mazzo di pesca per quel per quel giocatore per il giocatore che controlla quel personaggio per esempio guardate questo è il mazzo di zio paperone ogni personaggio è collegato a un colore a questo punto in ogni round il giocatore inizierà il round con in mano tre carte ok di queste tre carte dovrà giocarne due e dovrà disporre le coperte davanti a sé e vedete le carte hanno un numero che corrisponde alla quantità di caselle che il nostro personaggio muoverà che l'automobilina muoverà lungo il percorso e ha anche però ogni carta sotto il simbolo di una manovra quindi l'idea è gioco due carte coperte davanti a me e la carta a sinistra la gioco per il suo valore di movimento mentre la carta a destra la gioco per la sua manovra d'accordo quindi quando tutti i giocatori questo si fa contemporaneamente quando tutti hanno scelto le loro carte si voltano queste carte e si risolve diciamo ogni giocatore risolve la sua mossa a partire da quello in vantaggio bisogna sempre partire da quello in vantaggio quindi l'ordine di turno diciamo cambia molto spesso durante la partita quindi si risolve il movimento si risolve la relativa manovra in alcuni casi particolari si attiva un potere speciale il potere speciale si attiva quando vengono usati quando vengono giocati due numeri uguali va bene quindi adesso ovviamente non me non me ne esce eccolo qua se io gioco per esempio questa combo quindi due due prima risolverò il movimento risolverò la manovra e a quel punto potrò anche attivare uno dei miei poteri speciali o meglio se il potere speciale è già stato preparato posso attivarlo altrimenti posso prepararlo d'accordo perché questi poteri speciali cominciano allora questi poteri speciali intanto sono quattro uguali per tutti e sono sei una carta di valore sei perché arrivano al massimo a quattro le carte di valore del mazzo le carte del mazzo diciamo normale di pesca arrivano massimo a quattro e qui appunto c'è una carta sei fra fra i poteri speciali c'è una carta che può valere da uno a quattro a scelta d'accordo ecco queste due carte quando vengono attivate vanno nella mano del giocatore e poi finiscono nella sua pila degli scarti quindi non è necessario riattivarle ogni volta come gli altri poteri d'accordo quindi c'è anche una piccola componente potremmo dire di deck building in questo in questo gioco mettendo queste carte dentro il nostro mazzo il nostro mazzo diventa più forte per così dire perché ha delle carte appunto più valide al suo interno invece gli altri tre poteri sono il potere razzi il potere mappa e il potere collegato al personaggio perché c'è anche un piccolo elemento di asimmetria ogni personaggio ha un potere speciale per esempio il potere di zio paperone si chiama devo devo tutta la mia fortuna alla numero uno puoi utilizzare il super potere per far valere la carta che hai appena rivelato come se avesse un valore movimento di uno o due quindi permette in pratica di manipolare un po il valore della carta della carta giocata ecco questi altri poteri vanno appunto prima preparati girandoli e poi attivati una volta che vengono attivati vengono di nuovo rigirati e per essere riutilizzati nuovamente vanno ripreparati quindi appunto giocando due numeri uguali o usiamo un potere preparato in precedenza o prepariamo un potere attenzione però perché c'è anche una manovra quella col simbolo del fulmine che permette di preparare un potere non di giocarlo ma di prepararlo e siccome nella sequenza delle mosse questa preparazione avviene dopo l'uso dei superpoteri è possibile per esempio se uso questa combo utilizzando questa manovra questa manovra qui col fulmine e ho un potere preparato tipo ho il potere preparato razzi per dire posso utilizzare razzi perché ho giocato due numeri uguali ok e poi ripreparare razzi perché ho giocato la manovra che mi permette di preparare un potere ecco quindi è importante diciamo seguire il giusto tempismo d'accordo e c'è anche un'altra regola importante la regola del sorpasso in velocità cosiddetta quindi se finisco il mio movimento nella casella esattamente dietro un'altra macchinina posso superare questa macchinina e mettermi davanti se ce ne sono tante posso superarle tutte e mettermi davanti quindi a volte ha senso diciamo fare un movimento inferiore rispetto a quello che potrei fare in realtà è obbligatorio muoversi del numero di caselle specificato dal numero però se per esempio gioco questa carta che mi permette di scegliere fra 1 e 4 e l'altra carta non lo so e questo è il mio valore di movimento posso decidere di muovermi di meno caselle per far scattare un sorpasso in velocità d'accordo quindi ecco devo dire che per essere un gioco per bambini perché insomma è allegato alla rivista topolino vabbè ci sono tantissimi adulti che comprano la rivista topolino io la compro molto spesso peraltro per così no per viaggiare diciamo nella nostalgia e nei ricordi e anche per godere di belle storie non dobbiamo non dobbiamo dimenticare anzi è una cosa poco nota che la scuola disney italiana è una delle più importanti cosa è la più importante al mondo le nostre storie disney i nostri autori disney sono delle star internazionali e forse non sono sufficientemente valorizzate dal punto di vista appunto nazionale cioè da noi molti non sanno tantissime persone pensano che topolino venga pubblicato ovunque che in ogni che ogni paese abbia i suoi utori non è così il nostro topolino è un'eccellenza italiana per così dire che viene esportata esportata in tutto il mondo quindi anche questo testimonia la nostra grandissima creatività nonostante questi personaggi siano poi nati in a me odio alcuni di questi personaggi perché un elemento importante della scuola disney italiana è anche che ha creato tantissimi di questi personaggi e tantissimi personaggi disney che oggi sono comuni sono stati creati da italiani per esempio per esempio brigitta per esempio il professor zapotec ecco questi sono tutti personaggi creati da autori italiani e oggi conosciuti in in tutto il mondo allora stavo dicendo per essere un gioco allegato a una rivista per bambini beh questo gioco è abbastanza complicato anzi mi verrebbe da dire quasi fin troppo complicato per alcuni suoi aspetti per esempio la tempistica appunto che stavo spiegando prima delle mosse io mi immagino tanti bambini in giro per l'italia sbagliare insomma la sequenza giusta delle mosse non è proprio così intuitiva sarebbe stato molto utile da questo punto di vista anziché avere delle carte riassuntive che riassumessero le manovre o i superpoteri avere uno schemino magari qui di fianco alla plancia che riassumesse esattamente la struttura del round quindi cosa va fatto prima cosa va fatto dopo credo che questo sarebbe stato sarebbe stato molto utile la 24 ore di paperopoli è un gioco è un gioco divertente d'accordo appunto è un gioco anche più complesso di quello che poteva essere ovviamente bisogna metterlo nella giusta prospettiva insomma quando lo si valuta e quando se ne valuta la possibilità di appropriarsene il gioco appunto è uscito in edicola ma ci sono possibilità per acquistarlo ancora credo vi metto i link in descrizione eventualmente di posti dove potete dove potete acquistarlo se ne trovo ma insomma è anche possibile recuperare arretrati presso le edicole acquistarlo di seconda mano ecco se avete intenzione di fare questo investimento di acquistare questo gioco sappiate che è un gioco divertente a piccole dosi perché insomma poi alla fine le partite hanno un po tutte lo stesso sapore il gioco tende ad avere un andamento sì che è sempre abbastanza simile questo non vuol dire che sia prevedibile perché possono verificarsi mutamenti di fronte anche importanti durante la partita però insomma lo svolgimento della partita stessa bene o male tende a ripetersi sarebbe stato utile da questo punto di vista avere dei modi per rendere il tutto un po più variabile per esempio sarebbe stato bello avere un percorso componibile anziché questo tabellone che peraltro è abbastanza orrendo ma tra un attimo parleremo dei problemi relativi relativi alla componentistica sarebbe stato forse meglio avere un percorso fatto da tessere ci sono molti giochi di corse che hanno tipo del plancette che si combinano fra loro così da creare un percorso diverso ogni volta poi questa cosa dei poteri dei personaggi doveva essere sviluppata meglio secondo me cioè i poteri dei personaggi sono troppo a parte che vanno anch'essi preparati dovevano cioè sarebbe stato bello se i personaggi avessero avuto dei poteri che li differenziano maggiormente e sempre attivi cioè sempre presenti in qualche mondo no quindi che la differenza tra questi personaggi certo sarebbe diventato più difficile poi bilanciare il tutto però insomma sarebbe stato più divertente ecco amplificare un po no questa asimmetria dal 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 mio punto di vista quindi ecco questo è quello che ci sentiremo di dire di questo gioco un gioco senza troppe pretese che cerca anche di fare forse più di quello che avrebbe potuto fare vista la circostanza in cui è stato creato le circostanze in cui è stato pubblicato tra l'altro dietro a degli autori anche anche dal curriculum non indifferente il suo autore principale almeno qui il primo che viene citato è andrea ligabue andrea ligabue è un grande esperto di giochi è il direttore artistico del play di modena il festival del gioco di cui tutti stiamo aspettando trepidamente la prossima edizione sperando che si faccia no perché siamo in crisi di astinenza da covid di queste grandi di queste grandi manifestazioni quindi ecco è un gioco che appunto fa anche più forse di quello che di quello che di quello che doveva fare e che si scontra appunto con la sua dal punto di vista delle meccaniche con la sua staticità da un lato e la sua anche poca chiarezza secondo me dall'altro no sarebbe veramente stato utile avere da qualche parte uno schemino che spiegasse bene le regole e la struttura del round proprio di fianco alla plancia e poi soffre anche questo gioco di problemi produttivi insomma allora le miniature con le automobiline sono anche carine sono anche carine sono un po fragili le teste dei personaggi sono un po fragili quindi io ho qualche testa un po storta e non mi stupirei se qualcuno dopo qualche giocata soprattutto con dei bambini particolarmente energici vedesse un papero perdere la testa non in senso metaforico ma proprio in senso fisico ok però ragazzi il tabellone vabbè le carte sono passabili insomma io le ho imbustate vanno mescolate molto no quindi ho deciso di imbustarle però ragazzi il tabellone è veramente inguardabile sia dal punto di vista della della grafica ma anche dal punto di vista proprio della sua della sua produzione materiale cioè anziché essere cioè i tabelloni fatti bene i tabelloni dei giochi fatti bene si ripiegano ma sono anche tagliati no in maniera da non dover da potersi staccare diciamo in alcuni punti così da non dover essere ripiegati troppo diciamo hanno alcuni punti che vengono ripiegati perché dove un tabellone viene ripiegato tende a rovinarsi invece questo non ha nessun taglio vedete è previsto che venga ripiegato in questo modo e che diventi questa roba qui vedete sta specie di lasagna a vario strato che poi va messo all'interno di questa scatola e anche la scatola ragazzi io apprezzo che ci sia la scatola la scatola è in grado di contenere tutto ha inclusi i personaggi extra diciamo però non è di cartone di cartoncino ripiegato più volte quindi anche questa è di qualità veramente veramente discutibile insomma anche anche le immagini disegni no abbiamo come dicevo prima dei disegnatori disney che sono delle eccellenze non mi pare che siano stati sfruttati tanto per realizzare questo gioco anzi mi pare che non siano stati sfruttati per niente cioè si ha quasi l'impressione di essere di fronte a un prototipo d'accordo ecco non voglio addentrarmi troppo nelle questioni relative al costo perché nei nei forum nei gruppi facebook qualcuno ha accusato il gioco di essere troppo costoso forse è troppo costoso se viene considerato cioè se vengono semplicemente sommati i costi delle varie riviste necessarie per metterlo assieme però oltre al gioco avete anche le riviste quindi non è proprio corretto diciamo sommare quei costi come se le riviste non ci fossero no cioè questo è un extra rispetto rispetto alle riviste quindi ecco forse preferisco non entrare diciamo nel nell'ambito costi lì ognuno fa le sue scelte insomma in base anche al suo in base anche al suo budget un'altra critica frequente che viene rivolta a questo gioco nei nei gruppi di discussione è che manca un po interazione violenta no molti giochi di corse permettono di mandare l'altro fuori strada prenderlo a sportellate danneggiargli la macchina però vabbè insomma questo è un gioco nato in un determinato contesto e creato per un determinato pubblico quindi capisco benissimo che gli autori abbiano preferito insomma non 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 mettere elementi di di interazione negativa troppo forte ecco bene questo è quello che pensiamo signori della 24 ore di paperopoli ma cosa pensate voi invece condividete le critiche che vengono fatte a questo gioco avete deciso di collezionarlo anche voi perdete la testa quando vedete un 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 grande giocatore di giochi heavy german difficilissimi che compra questo gioco e ne parla anche voi perdete la testa perché ho notato che molti hanno questo problema no come se come se la vita non fosse alla fine un insieme di alto e basso no come dice come dice il poeta d'accordo noi ci divertiamo moltissimo con giochi complicatissimi e ci piace è piaciuto anche collezionare questo gioco non lo intavoleremo spessissimo però insomma ogni tanto probabilmente faremo un giro in una di queste belle macchinine assieme ai nostri amici paperi quindi fateci sapere cosa ne pensate nei commenti se vi piacciono i nostri video mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per non perdere le notifiche e continuate a seguirci mosè dalla maschera riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video ciao